E da qui, da questa cittadina abbarbicata sulla balza orientale dei Monti Climiti, l'ultimo lembo degli Iblei che da qui degradano sul Mar Ionio e sull'ampio Golfo di Augusta, che il culto di San Sebastiano si diffuse in molti centri dell'isola sin dall'inizio del 1400. Siamo a Melilli, da secoli metri di pellegrinaggio, quasi una città santa, luogo di devozione e di contemplazione, di supplica e di ringraziamento, di lacrime e di gioia. Due volte martire sotto Diocleziano, Sebastiano è uno dei santi più venerati in Sicilia ed è qui che ogni anno viene solennemente festeggiato dal 4 all'11 maggio e dal 20 al 27 gennaio. Proprio il 27 gennaio, a partire dalle 17.30, in diretta web e in diretta tv, vi racconteremo la suggestiva consarbata, la riposizione nel suo sacello del venerato e prodigioso simulacro del soldato santo esposto per una settimana alla venerazione dei devoti. Potrete seguirci sul portale webmarte.tv, sulle nostre pagine social e su quella della Basilica di San Sebastiano di Melilli. In tv sull'emittente regionale TCS, canale 116 del Digitale Terrestre, vi aspettiamo il 27 gennaio dalle 17.30 per raccontarvi l'amore di Melilli per il suo patrono.